cambia la formula della lega futsal amatori per la stagione 2018 2019 e si torna con la semifinale di andata tra il centro sportivo e la siepe contro la sd valgis per questo primo appuntamento che porterà praticamente alla finale a determinare la squadra vincitrice della lega futsal amatori il buaca padurario la dalle indietro grama corregge il pallone poi fa partire il tiro e subito la deviazione di condei in calcio d'angolo padurario ferenci e c'è il gol con ferenci ferenci vicino a se bulboaca subito il fraseggio tra i due la palla subito ripresa invece da 30 fir che fa partire il tiro esce prova anche a distendersi ardelehan e poi marine e poi ardelehan perde il pallone padurario prova il preziosismo trova soltanto l'esterno della rete con dei campan calin nella possibilità per 30 fir visana c'è stato intanto il cambio grama alza il pallone poi con la testa va a colpire visano trovando però il palo il tiro e c'è condei che va per ben due volte a respingere la conclusione fallita l'occasione per il raddoppio ancora grama campan cristiano difende molto bene ma ancora bulboaca trova l'angolino campan cristiano buono il servizio per campan tiro libero ancora bulboaca la rincorsa palla che lambisce il palo se ne va a campan cristiano ardelehan poi allontana 30 fir prova visando alla distanza padurario scappa via ma non a padurario anzi aderlehan campan calin prova 30 fir marin sicuro disan padurario sale adesso il tiro dalla distanza di findrian non trattiene con dei e c'è il raddoppio ad arrivare a toccare findrian campan crissi a lungo con la testa findrian tocca ferenci se ne va via due poi in mezzo e con dei con dei per campan grande gol da parte di campan calinjonas accorcia le distanze la sd valgis grama padurario il tiro e la traversa gli dice di no sulla sua conclusione ferenci pover grama esce con dei ardelehan ferenci padurario in mezzo c'è grama tocca e spedisce il pallone in rete e c'è il 3 a 1 il tocco di grama lungoci il tiro di grama trova la traversa che riconquista il possesso palla ardelehan sale 30 fir in mezzo per il tocco di campan bulbuaca che sale ancora lungoci prova a calciare la rimessa laterale bulbuaca e poi sull'asse ferenci grama quest'ultimo mette il pallone in rete si accentra finisce giù non c'è fallo trandafir campan calin ma è marin che gli sbarra campan calin rimette in movimento trandafir poi serie di finte arriva campan calin dopo una deviazione marin visan arriva findrian visan colpisce spedisce la palla sotto la traversa ed è 5 a 2 ancora visan scambia con mokoroase si avvita da il pallone in mezzo visan colpisce il palo la palla che poi arriva con dei a retra ce ne sono due campan e poi campan calin si toglie almeno la soddisfazione di realizzare anche questo gol il terzo trandafir lupsan si distende il centro sportivo la siepe findrian ardelean e si avventa sul pallone findrian e porta a 6 le marcature del centro sportivo la siepe ardelean vuole passare ci riesce poi il colpo di trandafir ma arriva il triplice fischio finale il centro sportivo la siepe batte a sd valgis 6 a 3 in questa semifinale di andata della lega la futsal Amador Grazie a tutti.